La qualità dell'acqua che beviamo, la prevenzione dei rischi e la sicurezza sono di casa per noi di Acque Bresciane. È per questo che stiamo sviluppando i piani di sicurezza dell'acqua, uno strumento innovativo introdotto dal Ministero della Salute nel 2017 attraverso il quale preveniamo i rischi di inquinamento dell'acqua e programmiamo interventi migliorativi. Controlliamo l'acqua lungo il suo percorso, all'interno di ogni sistema idropotabile, dalle fonti da cui preleviamo questa preziosa risorsa, come falde sotterranee, sorgenti montane o acque superficiali, agli impianti di trattamento per purificare l'acqua se necessario e renderla potabile, ai serbatoi per garantire una riserva idrica anche nei periodi di maggior consumo, fino alla rete di distribuzione che trasporta l'acqua ai rubinetti delle nostre case. I piani di sicurezza dell'acqua sono sviluppati e continuamente aggiornati da un gruppo di lavoro di esperti, coordinato da Acque Bresciane, in collaborazione con enti di controllo e di protezione ambientale, enti di ricerca e amministrazioni comunali. La nostra forza è la sinergia tra la competenza tecnica e l'esperienza dei nostri operatori, che ogni giorno sono impegnati a verificare la filiera idrica intervenendo tempestivamente in caso di guasto o emergenza. La qualità dell'acqua è controllata sia dal nostro laboratorio che effettua campionamenti ed analisi su tutto il territorio, sia dall'Agenzia di tutela della salute. Grazie ai piani di sicurezza dell'acqua validati dall'Istituto Superiore di Sanità, avremo un'acqua sicura a disposizione dei cittadini, un piano di interventi migliorativi per garantire l'efficienza degli impianti e delle reti, una costante condivisione di dati tra Acque Bresciane, enti ed istituzioni. Noi crediamo nel nostro lavoro, se ci credi anche tu, apri il rubinetto. L'acqua buona oggi è di casa.